Sì, ho dovuto vedere la suoneria per farmi squillare e mi abbiamo arrivato Whatsapp, a cagare, no non si può sentire che mi arriva Whatsapp, ho capito ora mi sono catenellato per forza la suoneria, finora l'avevo in silenzioso. 3, 2, 1, azione, in mancanza di sole mi farò una bella lampada, sì che poi ero già in ritardo e questo no, e questo no. Stop, azione, no non sto a fare, salutazione, io non sono venuto perché ridevo per questa battuta, immagina che io sono Ren, no ero io Ren, esatto, volta Ren, non di Ren che volta. Vabbè basta, lascia prenderla, non ha spunti anche così, questa la pubblicherò domani. Umamma, 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 umamma. Però la più bella era perché se io mettevo così e ti facevi così. Aspetta, no no no, aspetta, Emma, Emma vieni qua, vieni qua un secondo, Mike, aspetta, mi sto registrando, registro anche questo. Che cos'è? Dai. Se mi dice mi sono nascosto bene gli spiace un palazzo. Dai, cos'è? Romano. Eh, mi sono nascosto bene, questo cos'è, 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 non si fa gestaci, dimmi cos'è questo, un dito meglio. Allora io mi sono nascosto meglio di te perché sto dietro un dito. Anzi voi state malissime, cioè io farò battute di merda, ma... Un ammutinamento! Oddio, mamma.